I gruppi organizzati della Curva Minghelli prendono posizione sulla questione societaria dopo la trattativa Ferretti Nuccilli e la conferenza stampa di lunedì scorso, con l'invito a pensare al fondamentale derby con il Livorno. Ecco il testo del comunicato. Ferretti sì, Ferretti no, Ferretti boh. Tutti i tifosi a Maranto da giorni si stanno ponendo questa domanda dopo il pastrocchio tra il presidente e il signor Nuccilli. Il tutto nel bel mezzo di una stagione fin qui esaltante sul campo e con una crescita organizzativa fuori, come non si vedeva da anni. La ritrovata fiducia nella società e nella persona di Maro Ferretti cancellate con un colpo di spugna nel momento in cui si è seduto allo stesso tavolo con il signor Nuccilli anche solo per parlare di Arezzo, figuriamoci per trattarne la vendita. È chiaro, proseguono gli Ultras, che per supportare i campionati di questo livello in queste categorie ci si possa guardare intorno per trovare nuovi soci pronti ad entrare in società con capitali freschi, ma deve essere anche chiaro che la porta non possa essere aperta proprio a tutti. Allo stato attuale delle cose, Ferretti è il nostro presidente, nonostante tutte le rassicurazioni esposte lunedì pomeriggio in conferenza stampa, resta difficile prevedere cosa succederà a giugno. Da questo punto di vista, un ruolo molto importante secondo gli Ultras lo giocherà la squadra alla quale attraverso queste righe ribadiamo la nostra fiducia. Per questo, già dalla partita di sabato sera con il Livorno, invitiamo tutti i tifosi a concentrarsi solo sulla partita nei 90 minuti in cui gli Amaranto saranno in campo, lasciando ad altri momenti la delusione per quanto successo la scorsa settimana a livello societario. Il nostro entusiasmo, unito alle qualità tecniche dei nostri giocatori, ci permetteranno di giocare a viso aperto contro qualsiasi avversario. Insieme si può. Detto questo, cercheremo di monitorare con ogni mezzo la situazione in società per evitare spiacevoli sorprese. Sappiamo tutti di cosa parliamo.